Com'è il peggiorno? Tutto a posto! Black Moon e D'Area 900 presentano i comici di tutto a posto show di Francesco Mazzullo. Vi aspettiamo venerdì 28 ottobre alle ore 21, D'Area 900, viale 20 settembre 64, Catania. Info e prenotazioni 095 50 1802. Info e prenotazioni 095 502. Info e prenotazioni 095 502. Info e prenotazioni 095. Info e prenotazioni 095 502. Info e prenotazioni 095 502. Info e prenotazioni 095 nostri. Info e prenotizzazione 063.